Una ragazza e il suo padrigno non si trovano. Scomparsi nel nulla. Anna Conti non ha alcuna intenzione di arrendersi. Nella Montoni è in pericolo, dobbiamo pure fare in fretta. Incontrerà tante donne. È l'impermeabile di Leila. Sapeva benissimo che lì dentro non ci poteva essere suoni in pute. Nessuna di loro dirà tutta la verità. Leila mi sta aiutando. Perché? Isha, tu lo sai dove si trova Leila? No. Qual è il mistero? Le sue impronte digitali sono dappertutto. La dottoressa è ossessionata dal caso di questa ragazzina in maniera strana. ci avvolgerà a questa storia. E anche noi cercheremo Leila fino all'ultimo istante. Non voglio perderla. La troviamo. In prima visione sei donne, il mistero di Leila. Questa sera a 21.30, Rai 1.